Ragazzuoli, questa è da canale! Questa è da canale! Questa... Ragazzuoli, buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Io sono euforico. Io vi dico solo che sono euforico. Saluto Antonio! Buonasera, già! Comunque, stasera raga abbiamo una missione. Dobbiamo vincere una partita con la Skybase. Oggettilmente, ecco. No, ho sbagliato, questo. Ok, ok. Un attimo solo che metto a posto. Ottimo! Hai crashato Fortnite? Sì. Per forza. Ah, no, non hai crashato, sei ripreso, sei ripreso. Ah, tu vedi crashato. Io ero crashato. L'ho missato male! Sono un fallito! Sono un fallito! Sono un fallito! Sono un fallito! Ci stavo morendo. Già? Sì, perché sono stupido. Come c'era? Sì, perché sono tu? Sì, perché sono un fallito! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In acqua, in acqua, assurdo, assurdo. Grazie a tutti. Ultimo team, due, 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 siamo tre contro tre, o tre contro tre, o tre contro... O tre contro tre, o tre contro uno, uno, o tre contro... basta. Ok, siamo in safe. Ok. Ma come sono i lupi, cosa dici? No, no, sono giocatori. Lo vedo. Eh, anch'io volevo prenderli. Oh! Ma ha preso! No, 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 no. Qua se cadiamo moriamo. Eh, allora, 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 panico, faccio panico, panico. Dov'è? Raga, e... Dovete tenere costruito, eh? Oddio! Oddio! Shock! Aspetta, aspetta, c'è già qua, c'è già questa costruzione. C'è già... esatto, esatto. Teniamo i materiali. Questi non hanno muni. Mi viene da dire che questi non hanno munizioni. Sei più contenta? Sei più tranquilla? Dobbiamo andare verso sinistra? No, sopra l'acqua. Allora, aspetta, siamo in safe. Non... aspetta, che questi... Per un attimo stavo cadendo. Oh, infatti, qua mi è venuto... Mi è venuto un coccolone. Ma che cosa ti sento sta facendo? Non sento che qua cado. Ma si vogliono spostare un pochino più in dentro. Perché sono proprio sotto? No, infatti le devi tirare su di loro. Al massimo. Esatto! Però non possiamo scendere tanto. Quanto materiale abbiamo? Eh, considerate, raga, che ci dobbiamo tenere con un po' di maz per fightare, eh? Dove sono? Non ne vedo. Neanche io. Cosa c'è Rita? Ma devo una safe vicinissima. Vieni di qua. Ma sembra che si vuole suicidare. Ma non mi voglio suicidare. Ma sto sul bordo perché voglio hittare la gente. Perché se non sto sul bordo... Se non sto sul bordo... Mio Dio, che pimpalle. Abbiamo medikit. Abbiamo pesci. Non usateli. Dove sprechi quelle frecce? Aspetta, siamo in safe. Si sta continuando a chiudere. Non vedo un... Allora, allora, tu dacci l'impulso. Facciamo così. Tieni. Rimani tu qua sopra. Rimani tu a curarti. Dammi... Dammi l'impulso. Come fai tu? Hai... No, no, no. Perché devi andarci da sopra? Aspetta, no, no, no. Aspetta. No. Aspetta. Aspetta. Allora, tu vai giù così. Io vado giù con l'acqua. Finché c'è. Sì, 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 c'è l'acqua. Sono sopra l'acqua, chat? Sono sopra l'acqua? Sono sopra l'acqua? Sono sopra l'acqua? Mi viene da dirti sì. Mi viene da dirti sì. Mi viene da dirti sì. Io vado. Vado prima io. Vi ho voluto bene. Anch'io. Io vado. Addio. Addio. Soffro di... Aiuto! Sei l'acqua, sei l'acqua. Non si sa! No. Dio, 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 via, 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 via. L'acqua, sei lì, via, 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 via. Vado via. No! Aiuta, Dio! Oddio! Sì! su vai boh mio dio il video termina qua ragazzuoli spero che vi sia piaciuto se volete altri contenuti come questo mi raccomando seguitemi sulla piattaforma viola link in descrizione e che dire noi ci vediamo o in live o in un prossimo video ciao raga un bacione